Ecco, queste sono le maglie del cappello. Abbiamo fatto, ho fatto uno, tre maglie a dritto e tre a rovescio. A questo punto ho iniziato a fare una a dritto e una a rovescio. Vedete? Qui dentro c'è una a rovescio, una a dritto e una a rovescio, una a dritto e una a rovescio. Vedete? Dopodiché ho iniziato a diminuire. Ho iniziato a diminuire. Dopo arrivato qui ho iniziato a diminuire queste due a rovescio. Vedete? Una e due. Quindi ho lavorato ancora un ferro semplice, poi il terzo ferro, poi l'ho scritto, che ve lo leggerò. Il terzo ferro ho fatto tutte a dritto qua. A un certo punto, il quarto ferro semplice l'ho fatto e il quinto ferro ho tolto questa al dritto, che era appoggiato sul cannolo a rovescio, eh? Che era una a dritto, una a dritto, una a rovescio, una a rovescio pure qua, una a dritto. Quindi facevo una a uno. E qui ho tolto. Adesso ho tolto al quinto ferro, ho tolto, ho diminuito questa maglia. Eh? Questa maglia, che poi, adesso, e quando diminuisco, porto sempre la maglia diritta sull'altra che devo diminuire. Allora, quella, quella, la maglia diritta che è dopo, la porto insieme a questa, che devo togliere. E l'ho tolta. Quindi adesso, vedete, qui c'è più spazio, perché ho diminuito questa. Adesso farò un ferro semplice ancora. E piano piano, dopo, devo arrivare molto più stretto, per diminuire ancora, perché qui devo chiudere poi dopo il cappello. E per fare questo, per diminuire, perché questi sono un po' lunghetti, questo, eh, questi ferri hanno il filo un po' lungo. Così ho fatto molte più maglie, perché quando poi si lava, ho notato che si stringe. Sì, si stringe. Quindi, il cappello che ho fatto per Gennaro si è stretto un po', però gli va ancora. Questo l'ho fatto molto più grande, molto più lungo, proprio per far sì che dopo, dopo l'avato, sia la lunghezza giusta. E quindi, poi, per stringere, porto fuori il ferro, che faccio proprio in questo modo, per portare fuori il ferro a una certa, a metà, metà del cappello, faccio questo modo, stringo qua, metto, metto il ferro dentro, la punta del ferro dentro, e porto fuori questo. Così posso lavorare metà di qua, dopo, quando finisce, viene il filo fuori di qua, e faccio l'altra metà, eh? Così, e lo porto di nuovo fuori, come ho fatto qui. È facile. Certo, in primo momento, poi, mentre, mentre è un po' difficile, però, mentre lavori, impari, viene da sé, certe tecniche, vengono da sé, vedete? Si tira fuori facilmente, eh? Il filo, eh? Così. E ora, cerchiamo ancora di diminuire. Faccio prima il ferro semplice, perché ho diminuito già, faccio il ferro semplice, e poi, dopo, diminuisca ancora, vedo quante maglie devo diminuire. Vedete questa? La devo ancora diminuire, non ho finito ancora il ferro, il giro, non l'ho finito ancora. Finisce a questo punto. Ecco, devo arrivare fin qua, perché questo è l'inizio. Quindi, devo arrivare fin qua, fin qua, perché le maglie sono ancora da diminuire. A questo punto qua, vedete? Questa maglia qua, che inizia sul cannolo rovescio, quando ho fatto una diritta e una rovescio, eh? Adesso, devo diminuire. Queste qui, le ho diminuite. Adesso, devo diminuire questa lunga qua, che porto questa maglia, sempre accavallata, quest'altra, eh? Le prendo e le unisco. Così faccio una sola maglia, a posto di due. Poi vi farò vedere il cappello finito. E questo è un cappello che diritto e rovescio è uguale, eh? È venuto uguale come, vedete? Vedete? Vedete qui? Ho diminuito anche questa. Questa. Vediamo a che punto non ho diminuito, se si vede ancora. Qui non si vede più. Qui si vede perché la devo diminuire ancora. Fatemi vedere un po'. Ecco, devo diminuire ancora. È ancora presente questa. Adesso vi farò vedere come la porto. qui il ferro è troppo lungo il filo e si allarga molto il cappello. Invece se lo butto fuori di qua così lo butto fuori diventa molto più stretto. E adesso facciamo questa maglia, eh? Riprendiamo il lavoro e facciamo questa maglia. Maglia non la prendo così. Certo, non si deve neanche prendere in quel modo. Prendo questa. Cioè, non è che metto questa che devo diminuire su questa. No. Metto questa che non devo diminuire su quella che devo diminuire. Vedete? Portiamo il ferro sotto. è sempre al lato diritto. Vedete? È facile. Questa poi la lavoro così com'è. Poi viene questa, vedete? Questa che diminuisco e la porto prendo l'altra che non devo diminuire come ho fatto prima. Esco e così devo fare tutto il giro. Vedete? Questa qui l'ho messa questa ha accavallato questa che devo diminuire e non c'è. Adesso le maglie sono di meno. Questa la faccio normale. Faccio vedere un altro. E questa che devo diminuire prendo l'altra che non devo diminuire e la metto sopra adesso va sopra. Vedete? È andata sopra. E quella che devo diminuire è andata sotto. E adesso lavoro tutto il giro. Va bene così. poi vi farò vedere il prossimo passaggio. Dopo faccio uno normale e poi ogni ferro diminuisco fino al punto che si stringe proprio bene e questo viene il cappello. Giù non so se lasciarlo così ma poiché è un po' larghino devo fare un bordo. Questo è per mio figlio Gianluigi l'altro l'ho fatta per Gennaro che ho fatto il bordo. Qualche io ho comprato la lana per i bambini lana vergine per i bambini perché un lavoro così io penso che si debba usare la lana buona perché se uno fa tanto lavoro e questo non viene via vabbè fa tanto lavoro e e poi su una lana che non vale è un lavoro perso invece su una lana che vale e fa bene a metterlo in testa questo cappello il lavoro vale dopo sapete cosa avete fatto è dura anche quando diventerà vecchio questo cappello ma quello si mantiene sempre nuovo sempre nuovo quante cose ho lavato per anni e anni ma è sempre come nuovo questo cappello tirando i ferri siamo già a questo punto eh così adesso diminuisco ancora un po' e arriviamo proprio qua in mezzo qua ancora un tantino ancora penso cinque giri ci vogliono vediamo un po' alla prossima eh grazie arrivederci eccovi il gioco dei cinque ferri questo il quinto va usato quando sono troppe maglie su uno solo su un solo ferro quindi si inizia col quinto ma finché si può fare si può lavorare con tre con quattro meglio ma visto che ci sono tante maglie ci vuole il quinto ferro e se vogliamo dirla tutta il gioco è questo il gioco è questo ecco anche così quadrato questo è il gioco dei cinque ferri a parte gli scherzi adesso ho continuato il cappello quindi l'avevo finito così che devo rifinire ancora però è infatti in questo modo ma adesso ho messo questo l'ho fatto con i ferri circolari ma questi ho dovuto mettere i cinque ferri quindi ho ripreso le maglie iniziali qui e adesso faccio tre a diritto e tre a rovescio con i ferri più sottili così viene un po' più stretta la fronte l'ho dovuto fare un po' più largo con più maglie perché i ferri circolari non li avevo più corti e non li vendevano neanche in quel momento quindi ho preso i ferri circolari adesso per fare il bordo solo solo li ho presi cioè sono più sottili così viene un po' più stretto e non viene grande il cannolo come questo viene il cannolo un po' più stretto solo fatto con i ferri sottili l'ho dovuto fare più largo non solo per i ferri circolari che erano lunghi ma anche perché il primo cappello che ho fatto per Gennaro lavandolo si è si è allargato si è accorciato si è accorciato quindi questo lo farò un po' più lungo più lungo e speriamo che non so la larghezza che devo fare perché vedo che non si è stretto però si è accorciato accorciandolo questo lo faccio più lungo speriamo che quando lo lavo venga venga bene accorciandosi un po' viene la lunghezza giusta speriamo che venga la lunghezza giusta sono i primi cappelli con questa lana quindi bisogna conoscere anche quanto si stringe quanto si accorcia ma essendo con i ferri molto lunghi quelli circolari quindi veniva un po' tirata non si è stretta più la lana ma si è accorciata vediamo adesso con questi con questo cappello che risultati ci dà dopo averlo lavato quindi adesso lo rifinisco così arrivederci e poi facciamo una foto dopo al cappello prima di lavarlo e anche dopo lavato buongiorno sono sempre io Anna Rinaldi volevo farvi notare che come segno dell'inizio del lavoro l'ho riportato era giù l'ho riportato qua e ho messo un filo di lana bianca un filo di cotone però bianco e volevo volevo farvi notare ecco adesso siamo all'inizio del quinto ferro lavoriamo la maglia come si trova adesso devo fare tre al diritto quindi inseriamo questo quinto ferro e lavoriamo normalmente tiriamo la maglia giusta e facciamo queste tre maglie al diritto è scappata via va bene poi ci vediamo dopo adesso è scappata via la maglia ci salutiamo la devo prendere inizio inizio del inizio del quinto ferro e facciamo le maglie come si trovano se si trova il lato diritto mettiamo il lato diritto queste sono tre maglie al lato diritto all'inizio all'inizio del ferro è un po' più più difficile prendere la maglia ma si deve mettere per forza adesso facciamo le tre al rovescio ma si deve mettere per forza il ferro nuovo perché l'altro ferro si è riempito ci sono troppe maglie sopra e quindi bisogna mettere il ferro nuovo ecco queste sono tre maglie al rovescio ora di nuovo le tre a diritto e via via così adesso quando siamo arrivati a a più ferri facciamo un un bordo di tre dita questo bordo dopo l'ho fatto in modo che lo possiamo fare anche come risvolto vedete c'erano troppe maglie quassù adesso questo è il giro nuovo che sto facendo perché dopo di questo è iniziato il giro nuovo bravo